Ma vi sembra logico? L'altro ieri la Commissione Europea ha diffidato il nostro Paese dalla produzione di formaggio con latte fresco, cioè ci dicono non producete formaggio con latte fresco perché violerebbe la libera circolazione o la concorrenza, ma vi sembra normale, ma vi sembra normale di un sistema o di una comunità come l'ha definita prima ciauchi normale, quella che anziché produrre e valorizzare le eccellenze di un Paese, anziché tutelare e difendere il Made in Italy, ad esempio nel settore agroalimentare che è uno dei settori trainanti del sistema economico del nostro Paese, l'Europa anziché difenderlo proteggendo il Made in Italy ci viene a dire ad esempio che se peschiamo una vongola di 2,5 cm va bene, ma se la vongola pescata dai pescatori italiani è un millimetro più bassa scatta una sanzione penale se non addirittura scatta una multa di 4 mila Euro, questa è l'Europa che io non voglio, noi non siamo contro l'Europa in generale, noi siamo contro questo tipo di Europa, l'Europa delle banche.